Sei iscritto alle scuole superiori? Sei rimasto chiuso in casa? Fai uscire la tua creatività! Puoi vincere 4.000 euro realizzando un video che parli di guida sicura per i giovani. Si può partecipare da soli, in gruppo o come classe, insieme al vostro insegnante. Suddividetevi i compiti! C'è chi scrive... C'è chi parla... Non ho messo la cintura! Fred, in questo modo, mette a rischio la vita sua e degli altri. Chi filma, chi pensa, chi taglia... E l'idea? Mettetela voi! Potete farlo drammatico, potete farlo comico, potete disegnarlo, potete farlo come vi pare. Per mandare messaggio, non ho visto la bancherana dei fiori! Avete provato la stop motion? Datti da fare! Crea un video sul tema guida sicura da solo, in team o con la tua classe. E invialo a modena-labaperti.it entro il 31 maggio. Per ulteriori informazioni vai su www.laboratorioapertomodena.it Un progetto di Laboratorio Aperto Modena, in collaborazione con Centro Sportivo Italiano di Modena, l'Autodromo di Modena e con il sostegno di Biper Banca.